Devo essere sincero? Pensavo peggio. Sinceramente, pensavo peggio. Oh e a tutti che rifai termo i thai, non posso urlare perché sono in casa e sono le 6.07. Non è ancora finito il match tra Jackie Paul e Woodley, ma mi sono già fatto un'idea di ciò che è successo. Sinceramente pensavo peggio. Cioè, vedendo il trascorso della famiglia Paul, pensavo che questo match sarebbe stato una pagliacciata estrema come contro Floyd Mayweather. Ma, ma, mi devo ricredere. Perché è stato leggermente serio. Allora, nel complesso diciamo che fino al quarto round sembrava che Jake Paul qualcosa iniziasse a fare. Nel complesso entrambi hanno fatto qualcosa. Cioè, non c'è estrema finzione. Hanno fatto un bello sparring di otto round, per carità. Dove anche dal quarto round in poi pensavo che Woodley avrebbe tirato giù Jake Paul. Ma, adesso io non voglio fare il complottista, ma sembrava che arrivasse fino a quel punto per mettere in difficoltà, ma non esagerasse. Come se dovesse arrivare fino alla fine dei round. E ripeto, ancora sta andando avanti, quindi... Ok. Ancora siamo all'ultimo round, però più o meno il mood è questo. In generale è stata una sorta di colpisco io, colpisci lui, colpisco io, colpisci lui. Ripeto, dal quarto round sembrava che Woodley accelerasse, senza essere a dare colpi molto più forti, che mi ha fatto abbarcollare più di una volta Jake Paul. Ma, voglio dare un appunto in positiva a Jake Paul, perché finalmente ha i pantaloncini più belli che io abbia mai visto. Gli unici pantaloncini con il nome che scorre nella cintura. Ed è la cosa più figa del mondo, e non so perché fino a questo momento nessuno abbia mai messi. In poche parole, un susseguirsi di otto round, trasmanaggiate, legarsi, qualche colpo duro da entrambi le parti, soprattutto dalla parte di Woodley, ma diciamo non più di questo. Ma, ripeto, io mi aspettavo molto di meno, già che hanno fatto otto round, io mi aspettavo che finisse prima, sinceramente. E ora arriviamo al verdetto. Il verdetto finale dà la vittoria a Jake Paul. Può essere giusto, non può essere giusto, ragazzi. Questo match era incommentabile. L'ho sempre detto, per chi mi scriveva nei DM, su Instagram, che Jake Paul non poteva mai perdere. Io pensavo in un KO, ma lui deve portare avanti questa roba qua di essere imbattuto. Non che abbia combattuto male, per carità. Detto questo, chissà quanto dovrà andare avanti questa storia, ora che è imbattuto, o magari un giorno diventa anche forte.